Lo Stato non deve pagare nessuna penale a Eurolink per la mancata realizzazione del ponte sullo stretto, semmai deve essere quest'ultima a risarcire gli italiani. A sostenerlo è l'avvocato Ernesto Fiorillo, presidente nazionale dei consumatori associati, nel giorno della manifestazione delle associazioni ambientaliste organizzata a Messina. Fiorillo in una lettera a Beppe Grillo, Pierluigi Bersani, Silvio Berlusconi e al presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha spiegato, è solo la Eurolink, la parte inadempiente, e quindi la nostra associazione di consumatori offre allo Stato italiano l'assistenza legale gratuita per chiedere al general contractor il risarcimento dei danni per l'inadempimento, pari a 600 milioni di euro. Secondo l'avvocato, l'azione legale andrebbe inoltre estesa agli amministratori della società stretto di Messina, costate ai contribuenti cifre esorbitanti. Tra l'altro, prosegue Fiorillo, il costo per la realizzazione del ponte sullo stretto è arrivato a 8,5 miliardi di euro, più del doppio di quello con cui il general contractor Eurolink, capeggiato da Impregilo, ha vinto la gara, parliamo del 40% in più. E poi l'elenco di tutte le illusioni economiche di vantaggi mai provati, ed ancora la pubblicazione da parte di Eurolink dell'elenco delle ditte espropriate per la realizzazione del ponte, dunque screditate. Insomma, per consumatori associati, un grande blef che i cittadini hanno subito e che non devono pagare sotto forma di risarcimento alla Eurolink, semmai è quest'ultima a dover corrispondere i danni allo Stato italiano.